Il Chieti per chiudere una volta per tutte i giochi per la vittoria del campionato. La Quessapone Montesilvano per cercare l'impresa per inseguire la salvezza. E impresa è stata per i Verde Oro che conquistano l'intera posta grazie al gol di Luca Marrone ed escono dal trino dei play-out. I Neroverdi invece perdono in un solo colpo tre punti contro Torrese e Sambuceto. Ora entrambe a meno sei, inizio di gara di Marcateatina. Al decimo Rodia incrocia fuori di poco, tre giri di lancette dopo, bisturi per Marfisi, cross al centro. Farendolini schiaccia ma Palena di Reni smanaccia in corner la minaccia. La Quessapone al primo a fondo colpisce, al minuto 17 Petito in becca Zippilli sulla respinta della difesa nero-verde-marrone con una pregevolissima conclusione di prima spedisce la sfera in buca d'angolo per il preziosissimo vantaggio ospite. L'ultima emozione della prima frazione è di marca Teatina. Marfisi scavalca Palena, Mottola è provvidenziale a salvare sulla linea. Nella ripresa sono i Montesilvanesi a sfiorare il raddoppio. Palla persa al centro campo, Majorani per poco non beffa Lonsi sfiorando il gol della domenica. Sul capovolgimento di fronte è Rodia ad andare vicino al pareggio ma ancora una volta il portiere ospite nega la gioia della rete. Ancora la formazione di casa ci prova alla mezz'ora con Marfisi che però non riesce a beffare la terza linea adriatica. La gara è maschia con i Teatini che si affidano a tre versioni al centro e Montesilvanesi che si difendono con ordine. Nel finale l'undici di Mister Lucarelli spara le ultime cartucce. Sul calcio d'angolo dopo un ribattinare la palla arriva ancora a Marfisi che scheggia il montante alto. L'ultima emozione in pieno recupero è un duello tutto in famiglia il nero verde Daniele Ricci da attaccante aggiunto. Si vede murare la conclusione a botta sicura dal fratello il verde oro Fabio Ricci. Non succede più nulla la questapone Montesilvano conquista un risultato storico e pesantissimo in ottica salvezza. Uscendo dal trino dei play out disputando una gara ordinata e da conoscitrice della categoria. Il Chieti non riesce a conquistare quantomeno un risultato positivo perdendo in un solo colpo tre punti contro le inseguitrici Torrese e Sambuceto. Ora entrambe a meno sei. I Teatini saranno impegnati proprio contro i Viola nel prossimo turno alla Cittadella dello Sport in un match in cui ora è proprio vietato sbagliare. Sì quello era un di più per noi oggi per noi contavano i punti siamo riusciti a farlo in una partita in cui sapevamo che dovevamo soffrire tanto perché la squadra avversaria ovviamente ci avrebbe messo in grandissime difficoltà. Secondo me nel primo tempo li abbiamo contenuti molto bene e abbiamo trovato la fortuna di trovare il gol con Luca Marrone all'inizio e poi di saper contenere i loro attacchi. Ci è andato anche bene diciamo che il 40% l'ha fatta la voglia di vincere il 30% l'ha fatto il campo perché non è un campo buono dove si può giocare a pallone e il Chieti soffre ampiamente questo campo. E poi ovviamente quel pizzico di fortuna ci andrà bene. Quando una squadra vince o perde il merito è di chi vince e il demerito è di chi perde quindi la responsabilità della sconfitta è la nostra, la mia perché sono al capo di questo gruppo. La prendiamo, la analizzeremo durante la settimana per ripartire già da martedì con uno spirito diverso, con un atteggiamento diverso. È inutile stare a commentare una partita in cui nel primo tempo, nel secondo tempo siamo stati bravi perché ci abbiamo messo un pochettino di voglia, determinazioni in più. Bisogna farlo dal primo minuto, bisogna farlo bene e solo così si può raggiungere il risultato. Dalle sconfitte secondo me arrivano anche gli stimoli per ripartire, dobbiamo essere bravi come è successo in passato.